Sette giorni in consiglio Ufficio di presidenza, capigruppo e consiglieri hanno ricevuto a Palazzo Lascaris i rappresentanti di associazioni e comitati sulle prestazioni previste dai livelli essenziali di assistenza In ascolto delle voci dei luoghi Parte domenica 7 luglio dal Colle dell'Iss la rassegna teatrale Voci dei Luoghi, Guerra e Resistenza 1940-1945, lettura e musica 2013, nel settantesimo anniversario dell'inizio della lotta di liberazione L'iniziativa promossa dal Comitato regionale Resistenza e Costituzione con il Comitato della provincia di Torino e Lucem è stata presentata a Palazzo Lascaris Sono 17 le rappresentazioni che toccheranno tutte le province del Piemonte, coinvolgendo le compagnie teatrali, assemblea teatro, Accademia dei Folli, Tecne e Compagnia 3001 Iris tra botanica e storia Fino al 28 agosto nella Sala Incontri dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio regionale del Piemonte a Torino La mostra Le Iris tra botanica e storia, realizzata dal Museo regionale di Scienze Naturali La rassegna fotografica, dedicata alla collezione di Iris del Giardino Botanico Rea, analizza le caratteristiche di questo straordinario fiore dell'arcobaleno Racconta la storia delle più famose ibridatrici italiane e propone illustrazioni ad acquarello di alcune iri spontanee del Piemonte Realtà aumentata Non più pagine stampate e statiche, ma la possibilità di associare alle parole e alle immagini contenuti extra che arricchiscono la fruizione del messaggio Video, foto, link, interazioni Da questo numero di notizie il tour entra nella realtà aumentata L'applicazione gratuita, scaricabile dall'Apple Store e da Google Play, consente di accedere ai contenuti aumentati di alcune fotografie Anche la facciata di Palazzo Lascris, sede del Consiglio regionale, è riconoscibile Inquadrandola con AirCode fornisce ai cittadini una serie di contenuti multimediali interattivi legati all'attività dell'Assemblea e al patrimonio artistico Bacheca in biblioteca L'ufficio in relazioni con il pubblico del Consiglio regionale ha allestito, in collaborazione con la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino Un progetto di presentazione di pubblicazioni di pregio Si tratta di una bacheca che espone le riproduzioni di volumi antichi e rari curate dal Consiglio regionale I cui originali sono conservati nella biblioteca stessa Tra le opere esposte, la geografia di Francesco Berlinghieri e Stirpio Micones del Peiroleri Grazie a tutti! Grazie a tutti!